Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo alla seconda puntata di Project Cars Come vedete partiamo quarti, siamo nello stesso evento del primo video in gara 2 Partiamo quarti perché per un problema di alcune impostazioni ho dovuto riavviare la carriera Quindi ho rifatto la prima gara e mi è andata meglio ovviamente perché conoscevo meglio le dinamiche di gioco e appunto il gameplay Per quanto riguarda appunto le gare adesso saranno più brevi e cercherò di fare due gare a video In questa gara c'è anche il pit stop obbligatorio e bisogna stare attenti a dire che se non si fa si viene squalificati Dovrebbe essere al quarto giro, i giri sono 5, partiamo quarti Ha il pelo della squalifica anche alla partenza però dettagli, dettagli Dobbiamo cercare di riprendere questo qui davanti che va abbastanza veloce La difficoltà per ora è a 80, negli avversari su un massimo di 100 Come aiuti ho appunto abilitato l'ABS, il controllo di trazione e ho disabilitato il controllo di stabilità L'ABS è praticamente fondamentale se si gioca con joypad perché il freno non è regolabile come su un volante Insomma con una pedaliera Quindi appunto si regola con le levette dietro che sono molto più precise ovviamente Quindi è meglio appunto tenere l'ABS perché si rischia di fare accelerate brusche Cioè frenate brusche e vabbè anche accelerate ma in quel caso il controllo di trazione E quindi si rischia di uscire di pista o fare qualche testa a coda Qui che ci vuole superare Ok, dovremmo farcela ragazzi Se volviamo qui fra un po' prenderemo la scia, forse l'abbiamo già presa Vedremo, cercheremo un punto dove superarlo Magari anche con qualche staccata, adesso cerchiamo Ce la possiamo fare, dai Ci lo dice anche il meccanico O l'ingegnere di pista Sì, comunque abbiamo ancora più o meno un po' di giri per riuscire a superarlo Il punto migliore in questo circuito è la staccata dove c'è la chicane Che dovrebbe essere qui davanti Sì, esatto, è qui Che è un punto interessante non proprio per superare ma per avvicinarsi all'avversario Posso andare in box Che sennò qua mi inicia Ok, bene Oh, che è successo? Cos'era questo lag? Cos'era sto lag da panico? Però l'ho detto che era pieno di bug Eh Sì, c'è un casino qua in box Magari ci sbrighiamo E buonanotte Dai Oh, meno male Ok, meno male Oh, speriamo che Dovrebbero fermarsi anche gli altri Io spero Vabbè, noi comunque andiamo Comunque sì ragazzi è pieno di bug Tra circa pochi giorni dovrà uscire una prima patch per console Quindi credo PS4 e Xbox One E Sì, dovrebbe essere anche per Xbox One E poi vabbè Per PC invece è già uscita Però alcuni si lamentano comunque Perché ha ancora altri problemi Diciamo che per quanto riguarda la risoluzione dei problemi E i problemi che ha riscontrato Non sta facendo una bellissima figura Perché è comunque stato già rinviato parecchie volte Moltissime volte E quindi Cioè, la gente si aspettava che uscisse Non proprio impeccabile Però con molti meno bug di quelli che ha ora Spero di non aver sbagliato il giro del B-Stop Non credo di essere così scemo Ho letto C'era la scritta B-Stop O me la sono sognata Oppure Ma non credo E ragazzi adesso Dobbiamo fare Un giro quasi impeccabile Per cercare di ristaccare Un po' Quelli dietro Anche se col joypad non è proprio facile Io ho un volante Ce l'ho Un vecchissimo volante Logitech Adesso vi preciso Non mi ricordo più come si chiamano i modelli Però con PS4 Volanti Logitech Non sono più compatibili Sì però questo ce l'abbiamo attaccato Cerchiamo di non offrirgli la scia Ok No no ok Il B-Stop era giusto Non lo sono sognato Perché sennò ci avrebbero richiamato Attenzione Cerchiamo di raggiungere la prima posizione E vai Perfetto Ecco Meglio che me ne sto zitto Va Aia Aia Merda Scusate Attenzione Ok Perfetto Siamo secondi Forse una volta me ne sto zitto E' meglio Vabbè dai Anche secondi non è male Però adesso dobbiamo cercare di Di difendere Ciao Sì però Mi spingono fuori Sti qua Bastardissimi Almeno il compagno di squadra Adesso lo superiamo in staccata Questo Almeno il compagno di squadra Sì Cacchio Stavamo andando benissimo Sono riuscito a buttare via una gara Vabbè comunque Siamo sul podio Ok Un lavoro fantastico Bene Grazie Grazie ingegnere di pista Allora No Riavvia col cavolo Continuiamo Ok Siamo sul Sul podio Terzi Marco Posaglia Ok Andiamo avanti Intanto adesso Salva Quindi Ragazzi Vi posso salutare qui Adesso Questo video Verrà più breve Del solito Però Nei prossimi video Come ho già detto Faremo Due garettine Di seguito Ok Vediamo Cosa ci è arrivato Oh Ci sei andato davvero Molto vicino Ottima guida Daremo un'occhiata Alla vettura Per capire Se ci sono ancora Maggini di miglioramento Ok Qua ovviamente Riceviamo anche Questo è il punto Dove riceviamo Anche le offerte Da altri team Quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete in piace E commentate Oppure iscrivetevi anche E alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti